Ben ritrovati i telespettatori di Piazza Grande di Trieste Oggi, ben ritrovati in Andrassa Sessa, con me al mio fianco Maurizio Foga, presidente del Circo Lomiani, nonché l'ultima star in ordine di tempo sulle Iene di Italia 1 un'altra settimana, protagonista all'Appa Liera di Servo, la produzione registrata circa un mese fa. Siamo solo in due perché purtroppo il terzo, non so se comodo o incomodo, l'assessore ambiente in Laureni, io continuo a invitarlo, ma lui non può mai, per ring, però può sempre. Eppure, perché sai, lì vanno tutti, si fa un calderone, non si capisce niente, per cui va benissimo. E la cosa assurda è che lui voleva che gli invitassi, insomma, lui voleva decidere con chi confrontassi. No, io volevo fare sto faccia a faccia, Foga, Laureni. E allora ho detto, eh, ma gli stessi lo fuga, ma penso che ancora un po', insomma, voglio dire, potrei anche decidere chi far venire ospite nel mio faccia a faccia. Comunque, a parte questo, che insomma abbiamo capito come Laureni e la Fittina facciano solo quello che gli va bene fare, dimenticandosi anche magari cose che ha fatto nel passato, perché qua troppo spesso, quando fai politica, poi ti dimentichi magari cose che facevi quando non eri in politica, alcune relazioni su possibili morti, robe così, inferiore. Io però voglio partire proprio dal discorso iene, se non ci siamo ritrovati, proprio per fare un po' un bilancio, un resoconto, e per raccontare anche com'è stata questa cosa, perché si sa le iene sono persone molto agguerrite, sono, insomma, abbiamo visto anche il battibecco, che ho senso di vedere, tanto l'ha visto tutti, con Cosolini, che evidentemente è troppo abituato a gente troppo accomodante. Che idea ti sei fatto di queste tre giorni delle iene a Trieste? Quattro, innanzitutto, ma diciamo che ho avuto modo di conoscerli abbastanza bene, anche perché la Nadia e Luca Pagliarino hanno fatto un po' base, tra virgolette, al Circo Lomiani. E poi mi hanno chiesto di accompagnarli in un tour, come lo chiamavano loro, su un po' le varie situazioni, e noi li abbiamo portati, molte più di quelle che si sono viste poi nel servizio, ma i tempi erano 16-15 minuti, è chiaro che le riprese sono state per 16-15 ore, e non è escluso e non escludo, che in realtà, come spesso fanno, ci sia una seconda tranche, un rientro, un ritorno. Chi segue un po' il tipo di trasmissione vedrà che, per esempio, loro amano ritornare a distanza di non molto tempo per verificare come la situazione si è voluta. Detto questo, mi si permetta di dire che, io l'ho anche scritto in diversi articoli sul sito www.circolomiani.it, che è il sito giornale che ha quasi 50 mila utenti unici registrati, totalmente gratuito, io mi sono permesso di fare alcune considerazioni per il linciaggio mediatico, a cui per due giorni di file è stato sottoposto quel servizio. Allora, questo riguarda un po' la categoria di quel professionale che chi ha visto ieri pomeriggio per l'ennesima volta, io sono tra questi, prima pagina con Walter Martau e Jack Lemmon, ha capito cosa sono i giornalisti. Ovvero, cosa sono i giornalisti veri rispetto al giornalismo praticato in queste terre, che di giornalismo e di professionalità del giornalismo probabilmente non conosce neanche l'esistenza. Il servizio montato dalla redazione Mediaset è stato semplicemente un fedelissimo spaccato della realtà. L'intervista, chiamiamola così, a Cosolini, al sindaco Cosolini, io vi invito a rivederlo, lo trovate anche sul nostro sito, come vi dicevo prima. Se voi dovete però fare uno sforzo, capisco che guardare la faccia di Cosolini può essere meno soddisfacente che guardare quella graziosa della minuta a Nadia Tocca. E' fondamentale guardare invece la faccia del sindaco, perché dall'inizio, gioioso e rubicondo per essere intervistato, come giusto anche che sia, da una televisione nazionale per una trasmissione che viene vista mediamente da oltre 3 milioni di italiani e poi viene replicata altre due volte, si passa a un certo punto alla trasfigurazione, sempre guardando il viso del sindaco, riprovate a fare questo esercizio e verso la fine del servizio, si passa a una vera e propria trasfigurazione facciale. Quando scatta questo cambiamento? Quando a un certo punto la Nadia Toffa gli domanda, ma come avete potuto vi lasciare l'autorizzazione integrata ambientale detta AIA nel 2007 alla proprietà della Pavia? Il sindaco Cosolini risponde, non l'abbiamo rilasciata noi come comune, l'ha rilasciata la regione e fin là abbastanza tranquillo. A quel punto scatta il dramma, il dramma di Cosolini, quando cioè la Toffa fa esattamente quello che il giornalismo insegna di fare, cioè essendosi documentata prima, ritorna sulla risposta dicendo scusi la regione, ma lei allora era per 5 anni, dal 2003 al 2008, pertanto nel 2007, assessore regionale, è stato uno dei 10 che ha votato favorevolmente al rilascio dell'AIA. E con lì bisogna guardare la faccia di Cosolini, una vera e propria trasfigurazione biblica, perde letteralmente la trebisonda e da lì discende tutto il resto di quello che ahimè è accaduto. Dove se mai c'è stata una tra virgolette aggressione verbale, stiamo parlando sempre in termini di tutto sommato civiltà, è stata da parte di questo mone grande e grosso che è il nostro sindaco e che contrariamente a quanto è nella sua natura, per me che lo conosco da adolescente, cioè essere persona sostanzialmente pacciosa e buona, è uscito in una parte che è stata decisamente sgradevole, visse anche le proporzioni fisiche. Se il posto di Cosolini vi fosse stato di piazza, che avrebbe fatto secondo te? L'avrebbe invitato a cena? Secondo me ecco la risposta che tu ti sei data è probabilmente molto vicina al vero. Ma che ti frega della ferriera, andiamo a mangiare fuori, che ti frega che tanto scusami il succo di quel discorso è stato che la Nadia Toffa ha fatto il suo mestiere di giornalista e cioè ha approfondito una risposta che nascondeva una cosa non vera, cioè uno scaricabarile, praticamente Roberto Cosolini il sindaco scaricava il barile della responsabilità dell'AIA a Roberto Cosolini, assessore regionale, cercando di nascondere, sperando che chi lo intervistava non sapesse che allora era stato uno dei dieci che l'aveva votata. Forse si ricorda anche lui. Ecco, ma questo invece è accaduto, vedete la anormalità ed è il nostro, tra virgolette, giornalismo, quello che chiamiamolo, tra virgolette, si pratica in queste lande. Non è la prima volta che il sindaco sostiene questa tesi e mai un giornalista, tra virgolette, del piccolissimo giornale o di qualche altra emittente o di qualche altro giornale regionale, ha mai ricordato e approfondito quello che peraltro il suo giornale aveva pubblicato come le notizie nei mesi, negli anni precedenti, non stiamo parlando di secoli, e ha permesso a l'intervistato, ma questo vale per Cosolini, ma vale per qualunque politico, vale per Razzetto, vale Presidente Industriali, vale per tutti coloro che hanno un qualche ruolo decisionale o di potere o sottopotere, ecco lì la stampa diventa l'agnello, l'agnello che nulla sa, nulla ricorda e permette al suo intervistato, guardi io le racconterò ancora per chiudere questa parte, una cosa abbastanza comune, anche io sono stato in tutti questi anni oggetto di diverse interviste, parliamo, adesso mi riferisco a quelle a livello locale o regionale. Molto spesso accadeva così, conferenze stampa o interviste, l'inviato dei giornali o delle televisioni veniva da me e mi diceva, se la televisioni mi metteva il microfono davanti, mi diceva prima di cominciare, Fogart cosa la vuoi che gli domando? Ecco, allora io restavo interdetto e gli dicevo scusi ma le domande le deve fare lei, io spero che lei conosca, se si è informato sull'argomento su quale deve farmi delle domande e per quale ci troviamo, me le faccia anche cattive e se io saprò rispondere ne uscivo a testa alta, se farò la figura del pirla è giusto che i telespettatori vedano che ho fatto una figura da pirla. Senti, tutto questo però, allora vabbè, a prescindere che il compito comunque delle Iene è quello di provocare, e Cosolini ci è caduto come una cramfa, perché oggettivamente insomma la un po' tutti sapevano anche perché non è vero come si è detto che era stato fatto un blitz delle Iene, no, le ho assumentate, hanno chiesto di poter salire, le hanno fatte salire tranquillamente, per cui voglio dire, non è che, perché l'immagine a un certo punto sembrava rivedere che, ah, questi arrivano di punto in bianco, no, quindi da questo punto di vista non c'è neanche la scusante. L'interrompo, la cosa era ampiamente annunciata perché due settimane prima avevo avvertito informato io durante un colloquio con il vice sindaco Fabiana Martini nel suo ufficio e alla presenza anche del Presidente del Consiglio Comunale, Isto Furlanic, che a breve sarebbe venuta la redazione, una troupe della redazione giornalistica di Medias che fa programmi di ampia diffusione in prima serata. Ecco, se uno non è proprio digiuno, sa perfettamente che sulle reti Medias e questa tipologia di programmi le fanno in prima serata solo strisce alla notizia e le Iene, ma io ho avvertito che il servizio sarebbe durato almeno una ventina di minuti. Vabbè, c'hai anche Mattox. E per cui... Mattox che poteva essere... No, ma servizi articolati, no, d'inchiesta, per cui la striscia non fa servizi così lunghi e l'unico altro programma è terra ma va in onda dopo le 11 di sera. Senti, a noi ci hanno raccontato le famose voci di Corredoio che il muro di gomma che la redazione delle Iene ha trovato per poter riuscire a scavare ancora qualcosa in più è stato tale da far sì che la famosa terra dei fuochi fosse quasi una spiaggia favolosa doveva andare a prendere il sole. Ma guardi... Cosa è successo? Ma guardi, il discorso è molto semplice e non si fa altro che proiettando su scala nazionale il discorso sul giornalismo che si pratica a Trieste. Le faccio un altro esempio anche parlando di Trieste in modo che tutti possano capire chi ha letto per due giorni di fila l'attacco sistematico alla trasmissione dove si voleva far vedere l'agnello Cosolini sovrastato da questo Davide all'incontravio a Dell'Orco Nadia Toffa che tra l'altro è uno sforzo professionalmente suicida perché siccome quella trasmissione o in diretta o in replica o sui siti internet l'hanno vista praticamente tutti a Mugia compresa oggettivamente le immagini parlano da sole e sono devastanti rispetto alla versione schede. Su questo la Monassi ha ragione? No, ecco volevo solo finire poi ti rispondo subito. Ma vedete per due giorni sulla stampa locale si è dato sfogo a tutti coloro che sono tutti, insomma il sindacato Cosolini stesso cercavano di avvalorare questa versione ma non si è fatta una cosa che è basilare nel nostro mestiere di giornalista e cioè guardate un po' si è dato spazio alle smentite e alle rettifiche e alle accuse, non si è descritto la notizia, cioè il bello è che la stampa locale non ha dato la notizia ma ha dato le repliche e le smentite. Allora ecco questo è l'esempio tipico del giornalismo nostrano, ma vale per l'Italia quello che accade sulla terra dei fuochi, il muro di gomma, ma guarda c'è un bellissimo film che si chiama proprio il muro di gomma che viene scritto e raccontato dall'inviato del Corriere della Sera, non dunque i brigatisti rossi, che ha seguito e scoperchiato per primo la tragedia di Ustica denunciando il comportamento colpevole e omissivo dell'aeronautica italiana su quella strage. Allora, il film l'ha chiamato, il titolo è il muro di gomma, queste sono le reazioni. La domanda sulla Monassi, guardate, qui bisogna fare un break fulminio. L'accordo di programma firmato da 4 ex ministri, da un ex sottosegretario, anzi 4 di cui uno è ritornato ministro, Lupi, diciamo da 4 ex meno uno ministri e un sottosegretario, dalla Saracchiani, da Cosolini e da, mi si concede a Livonia, Vittorio Zoglia per la provincia di Trieste, è stato un accordo, come io l'ho scritto e definito, salvanatiche per i politici. Perché in due parole, ve lo descrivo, prevede che chi acquista, se mai ci fosse un canicazze in giro per l'Italia, l'Europa o il mondo, l'industriale che dovrebbe acquistare la Favieva dovrebbe prima sottoscrivere le condizioni dell'accordo, cioè impegnarsi a cacciare per entrare 23 milioni di Euro più più che meno, dopodiché, che risulta solo dalla somma degli importi descritti, non è che la cifra me la invento io, dopodiché dovrebbe cacciare dai 16 milioni in su, che sono quelli necessari per fare i primi lavori emergenziali che noi sappiamo non servono a niente, previsti dalla perizia della Procura della Repubblica. Da cosa la Procura si è un po' alterata? A questo punto sono 39-40 milioncini da cacciare solo per entrare, a cui ci aggiungiamo 1 milione e 700 mila Euro annui di pagamento dell'affitto al demanio, per cosa? Per produrre 3 milioni di debiti, a essere ottimisti, al mese, che è quello che la feriera produce. Senti, che fine ha fatto Arvedi? Appunto, ma voglio dire... Arvedi è sparito! Scusate, quando Lucchini ha acquistato la feriera nel 1995, l'ha pagata 50 miliardi in 4 rate annuali. Allora la feriera aveva l'acciaieria che non esiste più grazie a Dio dal 2004, aveva i due altoforni rattoppati e messi a nuovo, la cocheria con una batteria rinnovata, aveva 1.400 dipendenti e stava, tra virgolette, in qualche modo sul mercato. Oggi chi compra va a pagare 40 milioni a essere ottimisti solo per entrare, cioè praticamente il doppio di quanto l'ha pagata Lucchini nel 1995, per trovarsi... Ma è da lira euro, scusa. E cosa? Da lira euro, è giusto. Il doppio è per trovarsi un altoforno morto, l'altro irrecuperabilmente agonizzante, la cocheria che sta crollando, l'impianto d'agglomerazione idem, l'acciaieria, l'unica cosa che trova è un grandissimo capannone totalmente vuoto, se non per i rifiuti tossici che hanno abusivamente depositato, per cui ditemi voi, i lavoratori sono più o meno tra i 400 e i 450, proprio un affarone. Allora la domanda è, lasciamo perdere Arvedi, chi è l'imprenditore che fa una scommessa di questo tipo? Cioè o è la Caritas, e allora magari se vuole aiutarci come circolo, noi abbiamo lo sfatto il 27 marzo, o è la Caritas o evidentemente mi pare molto difficile, oppure c'è qualcosa d'alto, e qui mi collego con la domanda della Monassi, c'è qualcosa d'alto che io obiettivamente non sono in grado di delineare. Se io te la buttassi in realtà l'obiettivo è che... No, no, ma io non corro dietro a ipotesi dietro allogico, guardate noi come circolomiani questi... No, insomma l'ipotesi, scusami, l'ipotesi di assicuratore, visto che il piano del porto è stato ti ho fatto assicurato, visto che c'è tutta questa guerra come abbiamo già detto, c'è la gaspro, potrebbe esserci il rigassificatore. Io posso lavorare solo sui fatti, non amo fare dietrologie o ipotesi, io dico sinceramente che ora c'è qualcosa d'altro che nessuno di noi conosce, ma devo dire che non lo conosce neanche la Saracchiani e Cosolini, perché non sono a livello di fiducia. Infatti io ti chiedo questo, perché c'è un dubbio che mi sono posto anch'io, ma siamo sicuri che Cosolini e le Saracchiani sappiano quello che sta accadendo, perché io ho paura vedendo appunto anche un po' le visite, lette appunto in maschera, di tutto e di più, tutti gli incontri, le cose, siamo sicuri che in realtà noi non siamo già stati tagliati fuori da tutto e semplicemente si muove un po', ma gli obiettivi sono vari. No, guardi, innanzitutto tutta questa melina ha un primo obiettivo e questa la possiamo ipotizzare perché sta scritta, è il decreto presentato da Zanonato nel fare Italia e che per fortuna pare sia stato fermato, pare in Parlamento. Il decreto prevedeva che chi avesse inquinato prima del 30 aprile 2007 non solo non doveva farsi carico della bonifica, ma riceveva dallo Stato italiano 70 milioni di Euro in regalo, 20 milioni per il prossimo anno come credito sull'imposta, cioè se uno doveva pagare le tasse gli venivano abbonati 20 milioni di tasse, per cui li restavano in tasca e per l'anno futuro per il 2015 50 milioni. Allora vede, già questo comincia a essere un business interessante, per cui uno dice magari posso perdere 40 milioni, diciamo 50 milioni, ma ne guadagno in due anni 20. E nel frattempo, finito in due anni, chiudo la fabbrica, utilizzo la logistica portuale e non debbo pagare, perché vedete tutta questa melina che tu hai descritto, tende a nascondere un dato fondamentale, che la bonifica del sito dove è insita la feriera, di cui il 60% è di proprietà pubblica, cioè nostra, costa la bellezza, non perché l'ha stimata Fogar, ma sta in un verbale del Ministero dell'Ambiente firmato dal Direttore Generale del 2010, già allora la stimavano in 100 milioni di Euro. Per cui, attenzione, chi compra con la legge europea ed italiana esistente senza il decreto zanonato, non solo paga 40 milioni per entrare, ma compra tutto, anche l'inquinamento, per cui si mette in conto altri 100 milioni da cacciare. Poi però se vuole mi pare che può rivalersi, no? Allora, sì, che corra dietro a chi? Alle 12 principali banche a cui il compratore dovrebbe rivolgersi per avere il mutuo, perché non è che vedi, apri il portafoglio e metti la mano in tasca e dico, ecco qua, 40 milioni e siccome sono generoso, toh, facciamoci i fattori da 50, bevetevi un caffè. No? Va dalle banche a chiedere dei fili e poi verso queste banche dovrebbe fare l'azione di rivalza. Uno può anche dirmi che c'è una mucca a due teste che vola in questo momento, io faccio difficoltà a immaginarlo. Senti, abbiamo ancora 5 minuti. Secondo te è servito qualcosa il programma delle Iene oppure come al solito, adesso ne parliamo ancora per un po' di giorni e poi dopo... Ma secondo me, vede, io sono molto contento, ma sono al tempo stesso, se me lo permette, un pochino amareggiato, perché quelle cose che abbiamo contribuito a far descrivere nel servizio, noi le dicevamo dal 98, dunque dalla bellezza di quasi 16 anni. E loro hanno usato quel potente mezzo che è la televisione per imporle, per rompere un silenzio che la stampa locale dal 2000, cioè da 14 anni, ha steso con questo cordone sanitario e ha continuato a stendere, perché nella replica si dice sul piccolo giornale, si parla di servola. Ora chi guarda il servizio delle Iene, siete a parlare di Capodistria, di Trieste, nello specifico di Chiarbola, di Valmaura, la scuola di Via Svevo, insomma che almeno al piccolo giornale ho capito che i giornalisti ricevono un ricco compenso extra tasse per aggiornamento culturale all'anno, questo vale per la RAI, ma vale anche per la carta stampata per i professionisti. Ma perlomeno che se compri un tutto città, anzi che se lo leggano, perché tutto città è distribuito gratuitamente, no? La scuola di Via Svevo, Via Svevo non è serbola, è Via Svevo, cioè Chiarbola, ponziana. Allora, vedete, io credo che il servizio sia servito profondamente, io non godo degli infortuni, ripeto, del sindaco, mi è dispiaciuto, no? Mi è dispiaciuto moltissimo perché tutt'Italia ha visto chi ha la responsabilità, ma non è solo Cosolini o la Serracchiani, che vorrei vedere molto in regione e poco a Ballarò, poco a Roma, sinceramente, perché è pagata per fare il Presidente della regione e voglio augurarmi che sia capace di farla. Allora, io personalmente… Fortuna di essere lui in quell'intervista, ma il risultato sarebbe stato analogo se ci fosse stato qualunque altro. Vedete, quello che ha denunciato per esempio quell'operaio incappucciato, vi chiedete perché era incappucciato con la voce camuffata? Perché aveva paura delle ripercussioni da parte di una proprietà che non esiste più, visto che il Tribunale è il proprietario, visto che c'è un curatore fallimentare? No! Era incappucciato perché aveva paura delle reazioni di alcuni colleghi, tra virgolette, di lavoro, in particolare dei vertici sindacali. Allora, vedete, com'è possibile che quello… vedete, quando questi fanno la polemica, perché non dicono se quell'operaio ha detto, se quell'oro, tra virgolette, collega ha detto il vero o ha mentito? Perché non rispondono nel merito? Perché stiamo parlando di 83 lavoratori morti in 12 anni, su un totale di 450, più del 20%, ma Cristo la salute dei nostri operai, il futuro dei nostri operai e devo dire che in questi 14 anni siamo stati gli unici a presentare un progetto di riconversione praticabile, finanziabile, bene, nessun altro l'ha fatto, bene, questa situazione non stia minimamente a cuore a chi rappresenta o dice di rappresentare i lavoratori, a chi dice di rappresentare la nostra comunità, in comune e in regione, perché la tragedia continua e gli esiti di questa tragedia li vedremo per i prossimi 15-20 anni, perché le incubazioni… vede, mi si permetta, io ho vissuto personalmente situazioni drammatiche che non voglio raccontare in televisione perché sarebbero veramente troppo drammatiche. Ah ok, pensavo che… Sono bravo, sono bravo. Sì, vedi, con gli anni Maurizio si invecchia. No, no, ma vabbè, ma se tu corri dietro a un assessore di nome Laureni è chiaro che invecchi anche prima. Però senti, una cosa però, dai, io so che tu la odi proprio all'ultima, proprio la fai proprio telegrafica. No, ma io non odio nessuno. Io so che te non… senti, io lo so, insomma, perché insomma fui tra le persone che disegnalai più volte i problemi dei dati dell'ARPA, come stanno andando le rilevazioni dell'ARPA? Ci sono? Sono più stabili? C'è stato un miglioramento nella qualità del servizio? Come da te che sei la mattina, lui, cioè Maurizio è bellissimo, per cui la flutte fa come si alza, gli sa che alle 11.58-59 secondi arriva i dati, vum! Vedi, chiudiamo con una nota d'allegria dopo questo panorama tragico, perché se mi domandi come va con l'ARPA non posso che risponderti con una risata. Per favore, parliamo di cose serie. L'ARPA, ahimè, in questo momento, e spiace dolorosamente dirlo, è tutto, meno che serio, ma non perché lo dice Fogar, ma nell'opinione pubblica dei cittadini di Trieste e temo della regione. Vuole che le racconti una battuta per far sorridere tutti? Sì. In un'audizione in Consiglio regionale, dopo il mio intervento, ho preso la parola al direttore scientifico dell'ARPA, del tutta l'ARPA regionale, lo tomatassico, questi sono gli atti dei verbali della regione. Si parlava di benzopirene e ha esordito con queste parole. La causa principale delle emissioni di benzopirene in regione sono le foreste di conifere dell'Alto Friuli. E con questa battuta, vedi che è la verità, non è una battuta. E con questa nota di conoscenza, finiamo qui la prima parte, dopo la pubblicità invece parliamo di sicurezza con Lorenzo Tamano, del sindacato autonomo di polizia, e poi di un suo collega, perché troppo spesso i politici parlano, ma non facciamo parlare invece chi conta, e cioè chi sta sulla strada, e chi ci può dare un quadro migliore della situazione. Due minuti di pubblicità e torniamo subito qui a Piazza Grande. Addio Umberto.